Finalmente quest'oggi si è visto un po' il vero malatesta in avanti, tante occasioni avute, peccato che il portiere ha fatto un miracolo su quella girata veramente bella. Quest'anno purtroppo è un'annata un po' nera per me e per la Carrarese, adesso sono rientrato, ne ho sempre avuto uno, qualche problema fisico, la squalifica, ne è sempre stata una di mezzo, adesso sono rientrato, spero di essere utile per questo finale di stagione che comunque vale tutto alla fine, ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Ecco comunque diciamo nel secondo tempo quando tu sei entrato sicuramente la squadra ha avuto un altro piglio offensivo, mancherebbe il tuo gol, speriamo che arrivi in partita ancora più importante di questa, magari già Catanzaro nello sconto diretto col Barletta. Sono il primo che l'aspetta e il gol mi manca tantissimo, l'importante adesso era rientrare nel migliore dei modi e dare una mano ai ragazzi perché stiamo facendo tanti sacrifici, adesso è un periodo nero però nonostante tutto siamo là aggrappati e ce la dobbiamo fare.